Molti anni fa, all'inizio del mio viaggio musicale, lessi una frase di un chitarrista classico. La frase era questa, mi colpì molto e l'ho tenuta cara fino a oggi. Diceva, la chitarra è uno strumento che è suonato bene quando le note danno l'impressione di entrare una dentro l'altra. Mi colpì molto, io ero giovanissimo, stavo muovendo i primi passi, però capì che dentro quell'affermazione c'era qualche cosa che riguardava il mio strumento, qualcosa che non ero proprio in grado di comprendere in quel momento, ma che sarebbe stato importante. Non so come a volte, ma abbiamo queste intuizioni. Stavo facendo una lezione con uno studente, vi faccio ascoltare un pezzettino di un arrangiamento che ho fatto di un brano molto conosciuto dei Beatles, che è While My Guitar Gently Weeps di George Harrison. Perché è un arrangiamento non particolarmente difficile, all'apparenza non particolarmente difficile, ma che nasconde alcune cose che possono essere interessanti. Abbiamo passato una lezione a correggere delle note che non davano l'impressione di entrare una dentro l'altra. Non è tanto sulla prima parte... ... ... Quanto sulla seconda ci sarebbero tante cose da dire anche sulla prima però c'erano un paio di passaggi sulla seconda parte Questo passaggio in particolare è la parte iniziale Qui suono la melodia in questa maniera Il brano è per come l'ho arrangiato in La minore e La maggiore ovviamente come l'originale però ho il capotasto al terzo perché non mi piaceva suonarlo nella tonalità originale in basso mi piaceva dargli un po' di brillantezza ma al di là di quello che è una scelta assolutamente personale mi riferisco agli accordi come se il capotasto non ci fosse Questo è il primo accordo del ritornello è un La maggiore Le note sono queste La, Si, La Si può suonare in molti modi Si può fare così perché no? Chi avrebbe avuto niente da ridire? Io Perché Mi sembra più bella questa cosa Perché si crea questo intreccio di note che suonano insieme e che per fortuna possono suonare insieme perché non è detto sempre che le note se suonano insieme poi suonino bene In questo caso il passaggio non era proprio suonato così quando stavamo affrontando la lezione suonava più o meno come se avessi avuto una nota l'avessi dovuta togliere e poi rimessa giù Suonava così ma io non l'ho scritto così l'ho scritto così per poter avere questa risonanza che mi piaceva molto Sono piccole cose ma la differenza molto spesso la fanno le piccole cose quando sono tante e messe insieme alla fine sono tante cose per esempio questo cantino mi serve se viene stoppato si perde completamente quella magia quel legame che c'è fra due accordi che sono completamente staccati in posizioni diverse per esempio questa io passo da questo si minore a questo si minore settima con la quinta al basso insomma mi interessa soltanto il fatto che c'è un si suonato qui ma c'è anche questo si e se questo si non viene mantenuto viene un po' a mancare il legame e poi questo passaggio perché anche qui il mi cantino svolge una funzione importantissima perché io sono sull'accordo di mi ricordiamoci il capotasto non c'è nell'immaginazione questo è un mi maggiore presso con la forma quella che sarebbe la forma del do quindi barrea al quarto tasto rispetto al capotasto e mi muovo con delle note però non faccio questo faccio questa nota è a vuoto e da questa forma di mi vado su questa forma di re risultante di questo movimento è un mi sus perché abbiamo una triade di re con un basso di mi quindi è un accordo sospeso quello che mi interessa però è il passaggio perché questo viene legato questa continua a suonare non so quanto si senta dal microfono ma penso sia abbastanza evidente se io questo mi non lo faccio suonare perché per un qualunque motivo lo tocco con la mano destra o la sinistra mentre mi sto spostando di posizione suona così che è molto diverso invece di l'altra parte l'ho già suonata è un arrangiamento che trovate sul mio canale Patreon comunque una delle cose che ho pubblicato da tempo è una cosa che mi capita di suonare anche dal vivo in realtà non è un arrangiamento è molto semplice ma mi piace il suono le cose semplici a volte suonano bene guarda che strano mi dà modo a lezione di confrontarmi su due o tre punti molto molto importanti che regolarmente vengono schippati vengono saltati perché in quel momento probabilmente ci si sta concentrando su altro e quindi quando ci si sta concentrando su altro magari si tende un po' no vabbè dai passaggio l'ho suonato sta nota che vuoi che sia e invece sta nota che vuoi che sia è proprio la nota che fa la differenza e molto spesso è quello che ci fa la differenza in tutto quello che suoniamo in come lo costruiamo e in come mettiamo gli elementi insieme per farli ascoltare poi agli altri perché noi suoniamo anche per il piacere nostro ma anche probabilmente per far ascoltare qualche cosa di bello agli altri e qualche cosa di bello se è bello è meglio che se è brutto